incominciamo con la parte meno importante no con la parte più importante che è la lezione e allora come dicevo non usiamo il microfono perché non funziona e c'è solo il microfono gelato e quindi o se devo scrivere codice mi manca una mano allora oggi iniziamo a parlare del server side finora abbiamo sempre parlato del frontend abbiamo visto le tecnologie principali del frontend quindi abbiamo visto html css vedremo javascript e abbiamo lavorato per varie settimane sul frontend oggi iniziamo a spostarci dall'altra parte e quindi a parlare del backend del backend che come abbiamo detto faremo in python e poi a questo backend aggiungeremo il database e aggiungeremo anche qualche interazione tra il frontend e il backend come per esempio i form quindi oggi iniziamo a parlare del backend di come creiamo un server web che ci permetta di pubblicare e rendere disponibili le pagine html css che abbiamo realizzato finora al momento queste pagine sono sempre state sul single computer quindi se uno voleva far usare l'applicazione web far usare qualcosa da un'altra persona doveva passargli i file corrispondenti alla pagina html css col server noi evitiamo questo passaggio perché ci penserà il server a passare le pagine diciamo così a qualunque browser faccia richiesta quindi qual è l'obiettivo di oggi ma anche della delle prossime lezioni perché appunto oggi inizieremo ma non finiremo tutto ovviamente è quello di creare delle applicazioni web che ci permettono di pubblicare il il nostro frontend delle nostre tecnologie con le tecnologie che abbiamo imparato in python sul server e per farlo non faremo a mano si può fare a mano manipolando i pacchetti http ma noi non faremo quello ma impareremo un framework web che ci nasconde l'editing manuale del pacchetti http e quant'altro che è un framework minimale quindi fa poche cose di default ma è poi estendibile quindi si possono aggiungere i pezzi che servono ok e questo questo framework si chiama flask ed è uno dei tanti framework che esistono per il web in python allora python include python che installate sul vostro computer che avrete installato sul vostro computer include già un server http che si chiama simple http server che permette di fare una serie di operazioni a basso livello quindi permette di creare un pacchetto http mandarlo da un'altra parte con un con del contenuto eccetera quindi molto basso livello non amichevole diciamo così da utilizzare per uno sviluppatore e quindi dato che questo server che esiste non è molto amichevole sono nati diverse librerie diversi framework negli anni che hanno diverse caratteristiche e diversi livelli di complessità e noi appunto useremo flask che uno dei se guardate a questo indirizzo è uno dei tanti serve framework per il web tra cui qui in questa slide ce ne sono tre forse tre più popolari uno è cherry pie che è ancora più semplice minimale di flask e tipicamente utilizzato da qualche altro framework come base quindi ci sono dei framework che usano cherry pie per costruire sopra e dall'altra parte dello spettro c'è invece django che è un full stack framework perché fa tutto ha una serie di automatismi nasconde una serie di cose non vi fa vedere quindi una serie di cose perché si preoccupa lui quindi in django con tre o quattro comandi è possibile creare per esempio un'applicazione web che abbia tutta la parte di registrazione utenti e login con tre o quattro comandi da linea di comando da prompte dei comandi e lui crea tutto quello che serve e fa funzionare tutto quello che serve quindi può essere comodo ha una serie di convenzioni che bisogna utilizzare ma non ci permette di fare certe cose come vogliamo farle perché bisogna seguire le sue regole e a qualunque cosa su interno quindi se uno volesse usare qualcosa di diverso è più vincolato e dall'altra parte cherry pie ma anche flask sono sono cosiddetti micro framework proprio perché fanno poche cose di default e sono poi estendibili nel caso di flask per aggiungere funzionalità che possono servire ma magari non servono a tutti e noi appunto useremo flask perché ha un giusto libro ma un giusto e ha un buon livello tra un qualcosa di veramente minimale come cherry pie o un qualcosa di ancora più minimale come il simple http server e un qualcosa di all in one come django quindi sta a un a un livello intermedio allora flask è un micro framework anche chiamato non full stack proprio perché non ha tutto al suo interno che è basato su che utilizza su interno altre due progetti realizzati dagli stessi creatori di flask e uno è questo che non so bene come poterlo pronunciare quindi quello e l'altro invece jinja che è un template engine quindi il primo ci dà tutta una serie di funzionalità per lavorare con la rete quindi per i pacchetti http per gestire web server per gestire le richieste eccetera quindi serve ovviamente a flask perché se no non potrebbe inviare le pagine html a bisogno l'altro ci serve per utilizzare in un certo senso python per creare pagine html quindi invece di scrivere l'html statico come l'abbiamo scritto noi per cui se volete creare tre post di un blog dovete fare copia in colla del codice tre volte e andare a cambiare i contenuti attraverso un template engine come jinja si può creare un template che è quello del blog post e poi dire ripetilo tre volte o ripetilo per tutti i blog che hai salvato per tutti i post che hai salvato e ci pensa lui a ovviamente generare il codice html corrispondente flask aggiunge intorno a questi un po' di il contesto dell'application server e aggiunge un po' di convenzioni e un po' di configurazioni quindi un po' di cose si possono fare come si vuole configurandole altre cose invece seguono delle convenzioni che gli sviluppatori di flask hanno scelto quindi le cose si fanno in un certo modo perché per convenzione si fanno in quel modo come dicevo oggi inizieremo a lavorare con flask vedremo le cose principali non finiremo come recap se ci serve della documentazione se ci serve del materiale su flask c'è questo libro che come vi dicevo non è obbligatorio ve l'avevo presentato nella primissima lezione del corso però è un libro su flask e c'è la documentazione gratuita su flask all'indirizzo flask.palletsprojects.com dove c'è tutta la documentazione e da cui è preso questo screenshot documentazione, esempi, tutorial e quant'altro allora partiamo da come si installa flask che è il punto base beh innanzitutto avete bisogno python 3.7 o successivo noi abbiamo detto che sarebbe meglio avere python 3.9 o 3.10 avevamo detto settimane fa dopodiché come si installa flask si può usare, ci sono due opzioni ma in entrambe le opzioni per installare flask usiamo pip pip o pip 3 dipende da che sistema operativo utilizzate e semplicemente dicendo pip o pip 3 install flask scritto con la F maiuscola python installa il packet manager di python installa flask con tutte le sue dipendenze tra cui il template engine e l'altro pacchetto che abbiamo citato prima che fornisce tutta la parte correlata alla rete quindi automaticamente flask installa se stesso e le sue dipendenze che sono in realtà 4 in tutto, 5 5 in tutto quindi molto piccolo, molto leggero abbiamo due opzioni per installarlo la prima opzione è quella di installarlo a livello di sistema operativo quindi apriamo un prompt dei comandi come qui in questo esempio sia su windows che su linux o mac e scriviamo pip o pip 3 install flask lui ci pensa un attimo, non troppo perché è un micro framework quindi è abbastanza piccolo e installa tutto quello che serve da quel punto in poi il flask è disponibile su tutto a tutti i progetti che usano python in tutto il sistema operativo quindi è un'installazione a livello di sistema operativo da quel punto in poi tutti i progetti python possono usare flask finché non viene rimosso l'opzione 2 che è l'opzione che viene raccomandata soprattutto a chi sviluppa tanto in python è quello di installare flask all'interno di un ambiente virtuale avete mai sentito l'ambiente virtuale in passato? l'ambiente virtuale di python? no, non è una virtual machine no, sì forse più o meno allora un virtual environment è una cosa che esiste in python e in alcuni altri linguaggi non è una virtual machine non ha proprio niente a capire con le virtual machine usa solo il nome virtual ma è tutta un'altra cosa praticamente quello che fa un virtual environment è permettervi di fare un'installazione dei pacchetti python specifici per un progetto specifici per una cartella nell'opzione 1 abbiamo detto che installavamo flask a livello di sistema operativo da quel momento in poi qualunque progetto python poteva utilizzare flask sia che volesse utilizzarlo sia che non volesse utilizzarlo era a disposizione di tutti gli sviluppatori python magari hanno bisogno di utilizzare flask su alcuni progetti con magari alcune altre dipendenze di una versione specifica su alcuni progetti ma su altri progetti no o magari su altri progetti hanno bisogno di utilizzare una versione diversa della stessa libreria che utilizza flask e allora dato che non possono esistere su un computer due librerie la stessa libreria in due versioni diverse contemporaneamente perché una sarebbe la versione 2 l'altra sarebbe la versione 1 e quindi quando installo la versione 2 sovrascrivo la versione 1 in python e ripeto in alcuni altri linguaggi esiste questo concetto di virtual environment cioè all'interno di un progetto all'interno di una cartella si crea una mini copia di python un ambiente python che eredita dall'ambiente python del sistema operativo ma è visibile e utilizzabile solo dall'interno della cartella questo vuol dire che se uno crea con queste istruzioni qui che sono nella slide un virtual environment all'interno di una cartella che si chiama my project o comunque vogliate chiamarla all'interno di quel installa flask all'interno di quel virtual environment flask sarà disponibile solo all'interno di quella cartella e un altro progetto al di fuori di quella cartella non potrà utilizzarlo quindi se uno ha necessità di avere progetti diversi con librerie diverse il virtual environment è la strada preferita nel mondo dello sviluppo python se invece uno sa che userà flask con tutte le librerie non importa in quanti progetti ma non avrà mai necessità diverse può installarlo a livello di sistema operativo quindi quello che fa alla fine installa flask quindi il risultato finale è lo stesso cambia la disponibilità da un progetto all'altro e quello che fa un virtual environment è che all'interno del progetto si crea con questo comando python3 o python dipende di nuovo dal sistema operativo venv venv dove venv è il comando per il virtual environment e il secondo venv è il nome della cartella in cui vado a mettere il virtual environment tipicamente lo stesso però questo comando funzionerebbe anche se uno scrive python3-m venv ambiente x o in qualunque altro termine questo comando cosa fa? crea una cartella all'interno di my project che si chiama venv in questo modo al cui interno va a mettere python pip e le dipendenze essenziali di python quindi fa una copia di python all'interno della cartella a quel punto bisogna con questo comando o con quest'altro in windows attivare l'ambiente virtuale perché altrimenti è solo una copia dell'eseguibile di python e di poc'altro all'interno della cartella e a quel punto si è in una propria versione diciamo così separata dal resto del sistema operativo di python in cui si può fare qualunque operazione si faccia di installazione o non di installazione rimane locale alla cartella e non è visibile al di fuori dall'ambiente virtuale quindi non è una macchina virtuale è un ambiente privato separato rispetto al resto del sistema operativo di python e a quel punto dopo che si è attivato il virtual environment si può installare flask esattamente come si installava prima e ovviamente si può anche con activate si attiva l'ambiente virtuale quando si vuole smettere di usarlo si scrive deactivate e si disattiva l'ambiente virtuale quindi la prima volta si crea una volta che è creato quando ci si deve lavorare si attiva quando si smette di lavorarci si disattiva se dopo due giorni bisogna ricominciare a lavorarci si riattiva e poi si disattiva ma non va più ovviamente reinstallato quindi questo comando va dato tutte le volte che uno deve iniziare a lavorare da un giorno all'altro o da un'ora all'altra quando lo si è disattivato o si è spento il computer quindi proviamo a io ho creiamo un progetto vuoto in questo caso creiamo una cartella così proviamo a chiamiamola primo e apriamola con Viso Studio Code io non ho installato Flask a livello del sistema operativo quindi non posso utilizzarlo ma vedete si? ok quindi una cartella vuota quindi io ho Python installato quindi funziona a questo punto dicevamo entro nella cartella ci sono già e scrivo python3-m venv il nome della cartella in cui voglio metterlo quindi python3-m venv e per convenzione la cartella si chiama venv però possiamo anche chiamarla in un altro modo e fa qualcosa questo qualcosa che fa vedete vi crea una cartella che si chiama venv al cui interno c'è python in questo bin c'è python3-m quindi lo stesso python sono scritto in tre modi diversi e anche pip che in realtà è un alias per pip3 più gli activate e quant'altro quindi dentro questa cartella c'è una copia di python a questo punto dobbiamo attivarlo io sono su mac quindi devo scrivere così venv venv il nome della cartella bin activate se fosse su windows scrivereste venv scripts activate ma è equivalente senza il punto davanti qui è punto spazio venv bin activate su windows è solo venv venv o il nome della cartella scripts activate a questo punto dando invio si attiva l'ambiente virtuale e voi ve ne accorgete perché qui viene scritto benv o il nome della cartella che avete utilizzato e a questo punto siamo nell'ambiente virtuale e possiamo installare sia con pip che con pip3 installare flask per il quale ci serve internet e quindi lui installa flask con tutte le sue dipendenze e da questo momento in poi in questo ambiente virtuale è attivo se vogliamo smettere di usare l'ambiente virtuale scriviamo deactivate e vedete che questo venv sparisce e anche se sono nella cartella perdo la visibilità sul python installato nella cartella e riacquisto visibilità sul python installato a livello di sistema operativo dove flask non c'è e se voglio riattivarlo perché voglio ricominciare a lavorare semplicemente scriverò punto spazio benv bin activate oppure benv script activate se sono su windows ok? quindi qui abbiamo o se l'avete installato a livello di sistema operativo non dovete fare niente di tutto ciò semplicemente andare nella cartella di progetto creare un file chiamiamolo app.py e iniziare a scrivere codice in python e di nuovo app.py è un nome potete chiamarlo come vi pare .py anche allora qual è la minima applicazione flask che possiamo creare l'equivalente dell'hello world questa è la minima cosa che ci servono per creare e lanciare creare un'applicazione flask ci serve prima di tutto importarlo poi creare l'applicazione in se stessa quindi questo app uguale flask e poi definire dato che stiamo parlando di web a quale indirizzo il nostro server dovrà rispondere quindi a quale pagine forniremo se fossero pagine html queste sono le tre cose minime che dobbiamo fare quindi importarlo creare un'app e poi dire al nostro server a quali richieste http dovrà rispondere e a quale indirizzo dovrà rispondere in questo caso in questo caso cosa stiamo facendo a quale indirizzo secondo voi rispondiamo sì più forte root rispondiamo alla root quindi se questo server è pubblicato all'indirizzo qualunque cosa 127.001 per esempio a quell'indirizzo lì quando noi andremo con un browser a quell'indirizzo lì cosa vedremo sullo schermo hello world come scritta quindi in questo caso è un esempio minimo non abbiamo html non abbiamo niente allora come si definiscono le root si definiscono con questa annotazione che in python si chiama decorator che è associato a una funzione quindi il decorator è associato alla funzione che segue e dice a flask che questa funzione va eseguita quando siamo in questo caso e questo caso è che la root è la root è root quindi è lo slash quindi a quella pagina va eseguita questa funzione e inoltre il decorator dà adesso non le stiamo utilizzando dà alcune proprietà da alcune variabili extra che sono utilizzabili in questa funzione adesso non le stiamo utilizzando le vedremo però all'interno di quelle funzioni possiamo utilizzare degli oggetti possiamo usare delle variabili che non abbiamo mai definito prima perché in realtà è flask ad averle definite e notate che questo app qui è lo stesso app che creiamo qui quindi questa variabile se non la chiamate app la chiamate applicazione per esempio qui dovete scrivere chiocciola applicazione punto root quindi questa è davvero la stessa variabile che stiamo definendo qui e flask di default ritorna quindi abbiamo un decorator abbiamo una funzione che si chiama come vogliamo e questa funzione quello che questa funzione torna è il contenuto della pagina che per esempio vediamo sul browser in questo caso vediamo la scritta vedremo la scritta hello world di default flask si aspetta che questo return sia html diciamo valido quindi che il contenuto di quel return sia html proviamo a scrivere questa piccola applicazione e vediamo come quindi prima di tutto dobbiamo importare flask da flask quindi flask minuscolo da flask maiuscolo è esattamente al contrario quindi da flask minuscolo che è tutto il framework flask importiamo quello che ci serve in questo momento che è l'oggetto flask per creare la nostra applicazione e app uguale flask underscore underscore name underscore underscore name è uno shortcut diciamo così che esiste in python per dire questo è il nome dell'applicazione qualunque sia quindi questo in tempo di esecuzione viene rimpiazzato col nome vero e proprio dell'applicazione quindi qualunque sia il nome dell'applicazione a questo punto possiamo definire una root che come nell'esempio la usiamo direttamente sulla root e una funzione che possiamo chiamare hello world che ritornerà hello world fine questo è appunto il minimo programma flask queste sono le tre cose minime che ci servono importarlo creare un'applicazione flask questo app e definire una root su una funzione per dire qual è la pagina che vogliamo rappresentare che vogliamo che sia fornita quale richiesta http ci aspettiamo che questa pagina risponda a quale metodo http ci aspettiamo che questa pagina risponda get get perché però questo vale per molti è giusto get quando non è specificato una root di default ritorna il get risponde a una richiesta get si può anche specificare qual è o quali sono i metodi a cui una root debba rispondere quindi una root può rispondere anche a più di un metodo e poi sarà la funzione sarà il codice della funzione che dice se una get faccio alcune cose se una post faccio alcune cose se una put faccio altre cose ancora eccetera ok quindi questo è il minimo programma come lo eseguiamo? python 3 nel mio caso python è data uguale e app.py cosa crede che manchi? quello è un modo quindi se scriviamo python app.py non funziona non parte quindi a differenza di un programma qualunque python questo perché questo è un server questo lancia un server che deve rimanere che deve rimanere attivo finché non viene stoppato non è che deve fare un'esecuzione e poi finire deve rimanere attivo ricevere delle richieste dal web dal browser e finché ne riceve continuare a rispondere a queste richieste non deve fare un'esecuzione e poi finire come un programma python normale deve rimanere attivo per sempre finché non viene interrotto allora flask ha due modi e questo è quello che ho detto e questo ritorno dopo flask ha due modi per essere lanciato uno è invece di scrivere python3 app.py come abbiamo scritto scrivere flask meno meno app il nome del file run quindi qui app si chiama main.py e quindi lancerebbe quel programma se il file non si chiama main.app o in altri modi ma casualmente si chiama proprio app.py basta scrivere flask run quindi di default per convenzione se il file si chiama app non è necessario specificare che si vuole lanciare il file che si chiama app basta dire flask run quindi se noi qui scriviamo flask run ci dice alcune cose ci dice innanzitutto che la modalità debug è spenta e va bene poi ci dice attenzione questo è un server di sviluppo non usatelo in produzione che sembra ovvio però è necessario scriverlo quindi questo è un server di sviluppo ha delle limitazioni ha dei problemi però ci serve per sviluppare va bene per sviluppare anche una modalità debug che possiamo attivare che ci dà delle funzionalità in più che non è un qualcosa che vorremmo mettere in produzione affinché tutti possano utilizzare il nostro la nostra applicazione web quindi va bene per sviluppare va bene per testare le cose ma non se volete tenerlo attivo per anni e poi ci dice altre due informazioni importanti uno l'indirizzo e la porta a cui il server si trova quindi di default parte all'indirizzo 127.001 sulla porta 5000 e poi ci dice come facciamo uscire a terminare il programma con ctrl c quindi finché non facciamo ctrl c il programma rimane in esecuzione quindi se noi adesso apriamo un browser e andiamo a 127.001 2.5000 abbiamo il nostro la nostra risposta all'hello world se scriviamo se scrivessimo qualcos'altro dopo lo slash cosa ci aspetteremo che capiti se scriviamo hello per esempio ci viene restituito il 404 la pagina di default del 404 non trovato che flask mette a disposizione noi non abbiamo definito nessuna root che si chiama hello o che si chiama in qualunque altro modo che non fosse la root quindi flask automaticamente mette a disposizione per tutte le pagine per tutti gli indirizzi per cui non ha un match una pagina di non trovato e lo fa da solo non dobbiamo dirglielo noi se torniamo in una pagina che abbiamo definito noi ne abbiamo definita un solo indirizzo in questo momento ci ritorna quello che abbiamo definito e se andiamo a fare ispezione elemento vediamo vediamo che c'è una pagina html che ha un head vuoto e un body con solo hello world chi ha scritto l'html l'head vuoto e il body noi no chi l'ha aggiunto? però ci sono quindi qualcuno l'ha aggiunto il browser Flask produce un contenuto che è html e quindi il browser cerca di visualizzarlo come può è testo è testo valido e quindi lo mette nel body perché sa che il testo va nel body quindi questo è il browser che aggiunge tutti questi elementi di markup che non sono specificati e se noi torniamo su server vediamo anche che a tutte le nostre richieste che abbiamo fatto nel browser c'è stato un log che racconta cosa è successo quindi quando abbiamo chiesto la prima volta la pagina abbiamo utilizzato il protocollo http 1.1 e la risposta è stata con status code 200 che vuol dire ok poi il browser ha anche chiesto la favicon che non c'è perché non l'abbiamo fornita e quindi il server ha risposto 404 poi noi abbiamo chiesto quella pagina hello che non c'è e quindi il browser il flasca ha di nuovo risposto 404 e infine abbiamo ririchiesto la root e il browser l'ha rimandata e ha risposto 200 flasca l'ha rimandata al browser e ha risposto di nuovo 200 quindi possiamo anche vedere che cosa succede quando facciamo le varie richieste ora questo è un modo di lanciare l'applicazione e volendo potremmo anche scrivere flask meno meno debug run per lanciarlo in debug mode oppure meno meno host 0.0.0.0 run per fare un server che sia pubblico quindi non solo in questo momento il server è accessibile solo dal mio computer voi non potete accedere al server perché è sulla 127.001 ma io posso dire metterlo sull'indirizzo pubblico di questo computer diciamo così adesso siamo attaccati ai due ROM quindi lui avrà io sono attaccato ai due ROM quindi avrà un indirizzo sulla Wi-Fi di Ateneo quindi se io lo lancio in questo modo e vi do l'indirizzo IP sulla Wi-Fi di Ateneo e voi siete collegati alla stessa rete potrete se lo lancio in questo modo accedere al server che gira sul mio computer quindi ci possono essere varie opzioni e poi le proviamo e le vediamo il secondo modo per lanciare un server flask e qui dice vedete meno meno debug per lanciare il debug mode per avere un server visibile esternamente qui se volete cambiare porta non la 5000 si può usare meno meno port uguale il numero della porta che volete mettere basta che sia superiore alla 1024 e anche tutte e tre queste opzioni insieme ma di default lui parte su localhost quindi non visibile esternamente cold bug mode spento e con la porta 5000 l'altro modo di lanciare l'applicazione è quella di scrivere nel codice quindi non dalla linea di comando ma nel codice app.run app.run aperta e chiusa parentesi senza niente lo lancia esattamente come l'abbiamo lanciato noi adesso su localhost senza il debug mode e sulla porta 5000 oppure uno può inserire i parametri gli stessi di prima host, port e debug per dire se uno vuole cambiare quelle condizioni quei parametri o un sottinsieme ovviamente di questi parametri se si inserisce questa linea di codice all'interno del programma si può lanciare comunque qualunque programma python e il risultato è lo stesso viene lanciato un server in maniera costante quindi con python o python3 app.py viene lanciato sapete che cos'è questa prima riga? ridillo cioè sì ma non sono sicuro l'importante è così quando lo lanciamo direttamente a .py allora quello main sarà uguale a main quindi non sarà più decente altrimenti se prendiamo questo a .py come importato da un'altra parte a quel punto quello diventerà falso perché non sarà main per l'unico sì sì questo serve questo è il punto d'ingresso di ogni programma python quando lo si lancia direttamente quindi quando si lancia direttamente il programma python se c'è questo viene eseguito quello che viene riportato sotto questo if e quello che in altri linguaggi di programmazione è la funzione main in un certo senso funziona come quello che in altri linguaggi di programmazione è la funzione main quindi quando viene come diceva giustamente lui quando viene lanciato viene eseguito il codice che c'è all'interno di questo if quindi in questo caso lancerebbe il server quando viene importato da un altro file tutto quello che c'è all'interno di questo if non è visibile e non viene eseguito quindi questo è un modo per discriminare tra lancio il programma così com'è e allora eseguo quello che c'è dentro questo if se è presente altrimenti eseguo tutto tutto lo script se invece lo importo viceversa leggo tutto quello che c'è al di fuori di questo if tranne quello che è al suo interno quindi qui ci serve perché vogliamo lanciare l'applicazione solo quando la eseguiamo direttamente non quando qualcun altro la importa per prendere qualunque informazione gli serva oppure possiamo evitare di scriverlo e usare l'istruzione che abbiamo appena usato questo è un modo alternativo ma sono identici nei risultati allora fatemi rilanciare questo ma col modulo di debug spento e torniamo qui allora questo col modulo di debug spento vediamo hello world cosa cambia col modulo di debug immediatamente allora se noi per esempio ci accorgiamo che c'è un errore per esempio vogliamo aggiungere una virgola e salviamo e torniamo di qua e facciamo refresh non succede niente la virgola non c'è come dovremmo fare per far apparire la virgola quindi per avere la versione nuova del programma riavviare il server quindi dobbiamo spegnerlo e rifarlo ripartire e riaggiornare la pagina e a quel punto abbiamo la nuova versione della pagina ora qui ovviamente è una virgola possiamo tutti sopravvivere senza una virgola per un po' poi alla prima occasione sarebbe il server ma se voi immaginate di dover scrivere un programma un po' più complesso di questo magari c'è qualche errore e lo sistemate dovreste tutte le volte spegnere e rifare ripartire il server per vedere se la modifica che avete fatto funziona oppure no quindi magari c'è un errore lo provate a sistemare spegnete e raccendete c'è ancora o c'è un altro spegnete e raccendete e avanti così allora il debug mode risolve tra le altre cose questo problema allora quando lo lanciate con l'istruzione meno meno debug o equivalente vi dice esattamente quello che vi diceva prima ma vi dice che il debug mode è attivo e cosa cambia cambia che se ci sono degli errori in python vi li fa vedere nel browser con più dettaglio se ci sono degli errori generati da flask anche vi li fa vedere con più dettaglio nel browser quindi è utile in quel caso ma cambia anche che se io aggiorno un file il server si riavvia in automatico per cui mi basta riaggiornare la pagina e ho la versione nuova di tutto quindi io non devo tutte le volte spegnere e accendere ma ogni volta che salvo vedete dice rilevo un cambiamento in file reloading restarting quindi automaticamente quando c'è un cambiamento rifa ripartire il server e questo è solo aggiungendo il debug mode quindi questo è una comodità in più non cambia sostanzialmente cosa facevamo ma è una comodità aggiuntiva e poi per terminarlo sempre ctrl c come facevamo prima fatemi tornare visto che abbiamo quindi così abbiamo creato un programma un server con flask un application server con flask abbiamo personalizzato con il nostro hello world e l'abbiamo lanciato quindi questi sono i passaggi ovviamente essenziali che ci servono per poter lavorare ora torniamo alla parte più importante di un'applicazione flask che sono le root allora ogni pagina web o quasi ogni pagina web in flask è rappresentata dalla coppia decorator più funzione quindi un decorator chiocciola app se abbiamo chiamato app è la nostra variabile punto route aperta parentesi l'indirizzo parziale il path a cui si trova la pagina a cui vogliamo pubblicare in un certo senso la pagina e la funzione che sta subito sotto che è associata a quella a quel decorator questo app.root che è il decorator ha in realtà due parametri uno è il path che è una stringa che rappresenta il path sul server nel nostro caso la root che ovviamente corrisponde al path nella richiesta http che il server riceve dal browser il secondo parametro si chiama options e può contenere un certo numero di opzioni tra cui le due più importanti che potete vedere a questo sito perché sono opzioni che definisce il framework di routing quindi quello che Flask utilizza per la parte di rete ma le due più importanti sono metodes e redirect to metodes fa quello che suggerisce il nome specifica quale o quali metodi http quella path deve rispondere quindi app.route aperte virgolette hello virgola metodes uguale aperta quadra get chiusa quadra dirà che quell'indirizzo risponde solo in caso di una richiesta get se scriviamo get virgola post vuol dire che quell'indirizzo risponderà sia quando riceve una get sia quando riceve una post e così via è un array python in cui possiamo indicare una o più metodi http a cui quella route dovrà rispondere se non lo mettiamo come abbiamo detto prima il default è la get quindi nel nostro caso risponde solo a una get il redirect to invece è un altro metodo un'altra opzione che si può mettere insieme a metodes o al posto di metodes quindi questo options è una o più cose separate da virgola in qualche ordine quindi se vogliamo mettere un metodo scriveremo metodes uguale se vogliamo mettere redirect to scriveremo redirect to uguale e questo fa un redirect il redirect to fa un redirect a un altro indirizzo altro indirizzo specificato o come stringa che rappresenta un altro path o come una funzione nel programma che è associata a un altro route cosa serve un redirect? qual è l'effetto pratico di un redirect? reindirizzare da da una pagina a un'altra quindi noi potremmo dire che tutte le volte che arriviamo alla pagina root vogliamo fare un redirect alla pagina home.html quindi fa un redirect da una pagina all'altra quindi questi sono i due parametri le due opzioni oltre path che vengono usate più frequentemente poi ce ne sono un'altra manciata che vengono usate meno frequentemente quindi sono riportate direttamente nella documentazione non le ho copiate nelle slide perché sono molto meno usate queste due le useremo molto di più le useremo spesso dopodiché c'è la funzione associata al decorator questa funzione ha due caratteristiche la prima è che il nome della funzione è in flask chiamato il nome della pagina o il nome della route quindi quando l'abbiamo chiamato hello world possiamo dire che la pagina si chiama hello world quindi anche nella documentazione anche nelle slide quando indichiamo il nome della pagina il nome della risorsa intendiamo il nome della funzione associata a una specifica path associata a un specifico decorator e poi come dicevo prima quello che è nel return è il contenuto che volete ritornare al server ritornare al browser di default interpretato come html ora dato che il decorator può avere più di un metodo http l'abbiamo appena detto se noi volessimo sapere in questa funzione a quale metodo http stiamo rispondendo immaginiamo di avere una funzione che è associata a un decorator che risponde sia a una get che a una delete ovviamente faremo cose molto diverse se è una get da una delete se è una get restituiremo qualcosa indietro se è una delete cancelleremo una risorsa che abbiamo noi nel server e diremo fatto magari ora se usiamo un decorator che ha più di un metodo per capire a quale metodo stiamo rispondendo flask mette a disposizione all'interno della funzione un oggetto che si chiama request.method quindi una variabile che è request.method che contiene al suo interno il metodo http della richiesta che è stata fatta al server quindi ogni funzione ha a disposizione una variabile che si chiama request che al suo interno ha delle informazioni che cos'è secondo voi questa request? cosa rappresenta questa request in python? questa request in python cosa rappresenta non in python? che richiesta è? è quella che fa browser e il browser fa una richiesta di tipo? in che link protocollo? http questo request è un oggetto che rappresenta la richiesta http quindi contiene al suo interno non solo il metodo ma contiene al suo interno anche gli altri campi della richiesta http se servissero sicuramente se dobbiamo gestire con una sola funzione due metodi ci interessa sapere in quale metodo siamo quindi quello è il caso più frequente ma all'interno di questo oggetto request ci sono anche altri campi che sono propri della richiesta http che è arrivata al server e come si lancia l'abbiamo già detto ecco ovviamente giusto un warning possiamo lanciare un'applicazione flask pubblica con questo host 0000 che quindi fa un binding su tutti gli indirizzi P del nostro computer e di default sulla porta 5000 si può cambiare porta e si può anche mettere sulla porta 80 che è la porta di default ma occorre lanciare ovviamente flask come amministratore o come root dipende dal sistema operativo e ovviamente quando lo si fa attenzione perché state esponendo un'applicazione su un server di sviluppo potenzialmente a chiunque abbia il vostro indirizzo IP che ha in quel modo accesso a non solo al vostro programma ma anche a flask quindi se flask avesse un bacco di sicurezza e uno lo sapesse potrebbe sfruttarlo per non farvi un piacere diciamo così ok ora le altre funzionalità di flask le vediamo con un esempio un pochino più complesso dell'ello world che è già su github e che adesso apro qui questo è spento fatemi fare deactivate che si chiama 06 flask questo qua e allora qui devo perché non non c'è su github la cartella venv devo di nuovo dato che l'ho fatto come virtual environment devo di nuovo installare creare un virtual environment e devo attivarlo no venv bin activate e devo installare di nuovo flask ok allora che cos'ha questa nostra vediamo prima il risultato finale la nostra complicatissima applicazione flask ha due pagine la prima è quella pubblicata sulla root che ha un titolo in h1 queste sono pagine html ha un titolo in h1 ha un paragrafo ha un'immagine grossa quanto l'immagine originale e ha un copyright che contiene un link link a un'altra pagina che si chiama about punto html che ha un titolo di nuovo ha due paragrafi e un altro link che è torna al blog che torna indietro quindi è la versione la home page diciamo è la versione semplificata di quel blog che abbiamo iniziato a fare a mano in html css e poi bootstrap e quest'altra pagina invece è una pagina nuova così da avere due root almeno da poter provare con due root quindi come con quello che sappiamo adesso possiamo fare questo queste due pagine con flask questo è esattamente il codice che c'è su github che ho appena aperto abbiamo importiamo flask creiamo un'app creiamo la root di base come prima facciamo una funzione che si chiama index in questo caso perché è la home page quindi il nome della pagina index e poi nel return ci mettiamo il codice html tutto come se avessimo scritto in html come come siamo capaci a scrivere in html finora quindi c'è un html poi c'è un head poi c'è un titolo poi c'è un body poi c'è un h1 poi si chiude l'h1 poi c'è un p poi c'è un altro p con dentro un'immagine e poi c'è il copyright con un link si chiude il body e si chiude l'html e questa è la prima pagina la seconda pagina si pubblica su about slash html quindi quando il browser va a 127 001 2.5000 slash about punto html viene ritornato quest'altro html che di nuovo ha il tag html ha l'head ha di nuovo un titolo che assomiglia al titolo della pagina precedente inizia con iaw trattino e poi cambia dopo poi è un paragrafo un altro p eccetera 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 quindi questo è quello che abbiamo anche di qua c'è l'html e come stringa multilinea di entrambe le pagine e se noi eseguiamo questo e aggiorniamo la pagina vediamo che adesso si può tornare a uno zoom più normale quasi vediamo che è la pagina che abbiamo visto nelle slide se clicchiamo su questo link l'indirizzo cambia diventa about.html c'è il contenuto dell'altra pagina se facciamo torna torniamo alla home page abbiamo creato un link tra due pagine ok quindi abbiamo la nostra applicazione Flask capace di pubblicare le pagine html quindi l'html che abbiamo fatto se ci fosse anche un style avremmo anche lo stile css basta andare a scriverlo nel led e aggiungere le classi al body all'h1 quello che ci servono sì ci piace abbiamo finito tutto qui Flask cosa c'è che si potrebbe magari migliorare niente andiamo potremmo spostare l'html potremmo spostare l'html in un file ma avremo due file che hanno interamente l'html e bisognerebbe leggerlo e convertirlo in stringa sì in qualcosa si potrebbe fare in effetti ci aiuterebbe un po' almeno potremmo andare a capo potremmo avere una struttura un po' migliore cos'altro guardiamolo sulla slide che almeno si vede magari un po' piccolo ma tutto magari il verde non è stata una grande idea ma che cosa c'è tra queste due pagine html che potremmo migliorare o se fossimo pigri cosa vorremmo evitare di fare specificare il link dell'altra sì per esempio potremmo che tutti i link potrebbero non essere scritti come testo perché se questa pagina le cambiamo nome e la nostra applicazione non avesse 30 dovremmo andare a cercare fosse chiamata in 30 posti diversi dovremmo fare un cerca e sostituisci in 30 posti diversi quindi magari se fosse una variabile che la definiamo una volta e poi la usiamo sarebbe più comodo quello sì poi c'è almeno un'altra cosa che pensate di essere pigri e di voler scrivere meno codice possibile che cosa c'è qui che non vi fa essere troppo pigri c'è la ripetizione di un sacco di cose cioè tutti e due hanno questo è un esempio semplice tutti e due hanno HTML ed con un titolo che inizia allo stesso modo e poi continua diversamente ma inizia allo stesso modo in tutti e due dobbiamo specificare il body tutti e due hanno un H1 all'inizio poi cambia il contenuto ma ce l'hanno hanno una struttura simile ora questi sono esempi veramente semplici ma se immaginate un sito come quello che abbiamo fatto avete fatto nei laboratori dove c'è una navbar fare tre pagine vuol dire che voi copiate incollate identicamente andando poi a modificare tutto l'head andando a modificare il title e la navbar quindi ogni pagina avrà la stessa navbar ripetuta e se volete cambiare l'etichetta di un bottone nella navbar dovete farlo in tutte le pagine a mano quindi queste cose sono cose che scopriremo Flask ci risolve in un certo modo quindi prima di tutto generiamo le url quindi codificare le url destinazioni a mano non è tanto bello perché non è tanto bello un po' per quello che abbiamo detto che se devo cambiarne una devo poi andarla a cambiare tutte quindi sicuramente quello quindi possiamo usare un Flask possiamo usare Python per generare la url corretta in quel momento per una funzione dato che le funzioni rappresentano le pagine se possiamo generare una url per una funzione abbiamo quindi per un nome di pagina abbiamo la url corretta se cambiamo il decorator automaticamente quella pagina sarà aggiornata il link sarà aggiornato e questo lo facciamo con la funzione che si chiama url for url for il nome della funzione quindi se siamo nella pagina principale scriviamo url for about visto che l'altra funzione nel nostro caso si chiama about avremo automaticamente il link che va about.html e se domani decidiamo che about.html non si chiama più così o in una cartella o lo spostiamo il link rimane valido ci basta cambiare il pezzo nel decorator e questo si può anche utilizzare per i file statici con due parametri uno static che dice a Flask che questo per convenzione prima vi dicevo alcune cose sono fatte per convenzione altre per configurazione per convenzione i file statici immagini CSS JavaScript quindi i file che vanno forniti da server browser da server client così come sono vanno messi in una cartella che si chiama static questo è per convenzione se le mettete al di fuori non potete utilizzare questa funzionalità qua quindi per utilizzarla URL for static e file name uguale il nome del file statico che va inserito in quel punto e a questo punto ci pensa Python a generare la URL corretta per quel file anche se li abbiamo poi spostato quant'altro quindi proviamo a modificare quello che abbiamo fatto finora quello che era il progetto di partenza poi c'è la soluzione dopo nelle slide ma proviamo a farlo con URL for allora i link qui c'è il primo link come lo modifichiamo? al posto di questo dobbiamo scrivere URL for scriviamo direttamente qui URL for per cento s per cento s si poi però in fondo a questa qua metterli tutti in ordine quindi magari in questo momento facciamolo diversamente come facciamo? facciamo concatenazione di stringa classica semplice e brutale col più però facciamo anche col più però qua dentro siamo una stringa multilinea quindi se noi chiudiamo tutte facciamo più URL for abbiamo detto static virgola filename uguale e abbiamo detto che si chiama logo.png dove ci manca la virgoletta? ci manca qui e anche qui sì non stiamo migliorando la leggibilità di questa cosa però in realtà cosa è successo avendo aggiunto un'altra virgoletta? che questo non è più python è testo sì dobbiamo fare l'escape usiamo la virgoletta singola che html è di bocca buona sarebbe stato meglio usare le virgolette singole all'esterno in modo da usare quella doppia ora URL for ci dice che non non è definito noi abbiamo detto che esiste in flasco però non è definito cosa ci manca? perché non è definito? cosa dobbiamo fare? importarlo URL for ora se torniamo di qua e aggiorniamo vediamo che la pagina continua a essere l'avevamo attivato in modalità debug quindi lui ha detected change si era accorto del cambiamento e vedete che di qua continua a funzionare tutto perché effettivamente abbiamo rimportato l'immagine al posto corretto quindi a livello di browser e a livello di client non cambia molto non cambia niente perché l'indirizzo viene definito correttamente cambia a noi nel caso in cui quell'immagine o quel path cambia a livello di server poi viene ovviamente generato e inviato in maniera corretta al browser stessa cosa per l'altro href qui dove invece di about possiamo scrivere url for e il nome della funzione nella funzione si chiama about e possiamo fare la stessa cosa anche nel ovviamente sotto dove c'è un'altra url in questo modo se noi qui questa funzione la chiamiamo about1 o cambiamo il nome a questa pagina il link dall'altra parte rimane sempre generato correttamente quindi se noi salviamo di nuovo e aggiorniamo questo link continua a funzionare e se noi lo chiamassimo proprio about2 perché decidiamo che ci piace un altro nome questo link continua a funzionare e si chiama about2 quindi possiamo poi modificare se ci servono le root ma senza dover modificare il codice html che abbiamo scritto tutto chiaro fin qui? e nelle slide c'è una versione ovviamente diversa della soluzione ma è la stessa cosa che abbiamo fatto con url4 dove solo la differenza è diviso in tante stringhe concatenate ma alla fine è la stessa cosa dopo la pausa di 20 minuti iniziamo i template e durante la pausa ricordatevi gli adesivi e soprattutto i fogli di carta grazie